Feder Consumatori e Associazione Vittime Decreto Salva Banche uniscono ufficialmente le forze ed organizzano un corteo nella città simbolo del crack Banco Etruria, ovvero Arezzo. È una collaborazione di intenti che ormai è già iniziata ma che si ufficializza con questo corteo. Feder Consumatori Arezzo ha sempre dimostrato la sua volontà di scendere in piazza con i risparmiatori, lo fa per l'ennesima volta nella città che rappresenta lo scandalo di questo pasticcio. Il corteo partirà giovedì mattina alle 10 dalla piazza che ospita il Duomo e le sedi di Comune e Provincia. Attraverserà la città fino al Palazzo della Prefettura dove i manifestanti saranno ricevuti dal prefetto e terminerà davanti alla sede storica di Banca Etruria in Corso Italia. Attraversiamo tutta la città per la prima volta perché non è mai stato fatto un corteo quindi sarà piacevole anche per la gente che fino ad oggi ha protestato anche di Empoli e anche di altre parti d'Italia perché vengono persone da Roma, da Ferrara. Quindi sarà bello attraversare tutta la città in questo corteo e coinvolgere tutti i commercianti perché anche loro hanno subito le conseguenze di questo gravissimo scandalo. Insomma c'è necessità di alzare la voce perché le notizie sono confuse e i risparmiatori restano ancora in ansia. Ci sono dei soggetti che operano all'interno del territorio, uno un po' più istituzionale come può essere Feder Consumatori, uno che si è creato al momento come il Comitato Vittime e Salvavanche ma che giustamente uniscono insieme le loro idee, le loro forze perché indubbiamente bisogna trovare una soluzione a questi problemi.